Buongiorno, sono Susi, vengo dalla Siria, ho 20 anni, sono qua in Italia, vivo a Biella con la mia famiglia da un anno e sei mesi. Facciamo la musica tipo oriente kurdo, è la nostra musica della nostra zona di Kurdistan, il nostro paese, il mio papà, lui che canta oggi in questo posto a Biella, in Idro, facciamo la musica e speriamo se piace.